Come hanno festeggiato l'anniversario Michel Hunziker e Trussardi, come hanno festeggiato l'anniversario Tommaso Trussardi e Michel Hunziker, tre anni d'amore, come è andata la serata? Michel Hunziker ha festeggiato ieri sera insieme a suo marito Trussardi tre anni di matrimonio. La conduttrice di Striscia la notizia ha voluto mostrare ai suoi fan come il compagno della sua vita abbia voluto stupirla, organizzando una cena per loro due veramente romantica. Michel ha infatti caricato una foto sul suo profilo Instagram, in cui è comparsa seduta davanti ad un tavolo lunghissimo, ricolmo di pietanze e candele, e con suo marito dall'altra estremità del tavolo. Nella divascalia dell'immagine, la Hunziker ha inoltre scritto queste parole. Un vero lume di candela e intitolato, Lontani ma vicini. Che romanticone mio marito. Insomma, Michel Hunziker ha voluto scherzare sul fatto che Tommaso abbia forse un po' esagerato con la sorpresa, ma è rimasta comunque contenta per tutto l'amore che il marito ci ha messo nell'organizzare la romantica cena. D'altronde i due avevano già ampliamente festeggiato insieme a loro figli a sole, andando in giro per la città insieme alla piccola mano nella mano, come testimonia lo scatto che ha caricato durante le ultime ore il famoso stilista sul suo profilo Instagram, e che vi abbiamo posto qui sotto. Michel Hunziker festeggia insieme a Trussardi il loro terzo anniversario. È stata quindi una giornata memorabile ieri per Michel Hunziker e Tommaso Trussardi, i quali sono sempre stati insieme, sia con i loro figli durante il pomeriggio che da soli durante la serata. La bionda conduttrice ha anticipato la stupenda giornata ieri sui suoi social, pubblicando su Instagram tutti gli eventi che ricorrevano durante la giornata del 10 ottobre. Infatti, non solo è stato il compleanno della sua super mamma, la quale nonostante l'età avanzata è ancora una donna molto arzilla, ma Michel ha celebrato anche il quarto compleanno di sua figlia sole. Infine, ultimo ma sicuramente non ultimo nel suo cuore, la Hunziker ha rivelato ai suoi fan che il 10 ottobre di tre anni fa si era unita in matrimonio insieme all'uomo della sua vita. A tal proposito, Michel ha affermato che ricorda come se fosse ieri quel giorno, nel cuore portava già la piccola Celeste, che sarebbe nata l'anno successivo, in mano teneva nervosamente il buche mentre Aurora e Sole, mano nella mano, portavano verso loro gli anelli. Infine, la conduttrice di Striscia ha dichiarato che tale ricordo è tuttora indelebile nella sua mente, e rimarrà lì per sempre. Grazie a tutti per aver guardato il video.